Oggi Dodgeball Challenge, siamo nella nuova parco giochi appena appena uscita 2.0 blablabli blablabli e oggi facciamo dodgeball Sai ovviamente che cosa sono, sei già alle regole, sei tutto, vero? No, Steph, ovviamente, ma che cavolo è il dodgeball? Allora, campo da calcio, ognuno sta nella sua metà campo, quindi non puoi andare nella metà campo avversaria E ti tiri le granate in faccia, quando ammazzi l'avversario fai un punto È proprio molto, molto semplice, secondo me Molto esplosivo, molto semplice E ti informo che è divertente per tanti motivi Prima di tutto, dalle chest in questo momento, guardate raga, quanta roba si trova, l'hanno aumentato tipo troppissimo Si, hanno aumentato tutto Per terra si trova ancora più roba, si trova più roba ovunque, quindi è molto più facile trovare tutto quello che si vuole E per di più, quando si muore e si respawna adesso, il paracadute si apre quando sei molto più giù Ah, sì, è vero, è tutto bello Di conseguenza, anche se si schiata eccetera eccetera, si torna alla battaglia proprio velocissimi Quindi, secondo me, è tutto molto più figo Oltre al fatto che ora si può scegliere il team Da qui si può cambiare il team e si può decidere se essere avversari o alleati In modo tale da decidere un pochettino la modalità di gioco che si vuole giocare con gli altri Vabbè, questo sicuramente ha molto più senso in quattro, è che in due, però va bene, ci sta Vabbè, era interessante da dire allo stesso, non potevo farglielo sapere Non glielo puoi neanche far vedere, così No, ha fatto vedere che c'è la possibilità di switchare Non lo switcho, raga, soltanto perché se no muoio Quindi l'ho già scoperto Allora, non me l'aspettavo Vado alla villa, comunque io sto sfruttando più che lama in questo momento le ceste per trovare esplosivi E al momento ho 18 granate Io sono indeciso sul tipo di arma da utilizzare Perché teoricamente volevo utilizzare le Klinger Che secondo me sono il top del top Eh sì, assolutamente Però se non troviamo molte Klinger, le granate normali ci possono stare E lo dico soprattutto perché ne ho 18 Quindi sono molto fan dell'utilizzare quelle Perché io però l'ho trovato solo del C4 e delle granate Perché al momento sto prendendo tutti gli esplosivi, ok? Poi vediamo cosa utilizzare, però Però l'ho trovato questo Il C4 secondo me non è proprio utilizzabile Eh sì, ma forse è un po' troppo È un po' troppo sì Strano da lanciare, quindi Quindi vediamo qua un Klinger Bello, bello, bello Ecco che ottimo, 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 ottimo Allora, io vado qua sotto Si potrebbe anche fare che magari è guerra mista Nel senso, ciò che hai, hai, riveli e c'è grazia Si può stare Bene Potrebbe essere carino Oppure si inizia con le Klinger Quando finiscono, butti tutto quello che ti avanza Non lo so, tu prendi tutto e vediamo Allora, qui un po' di armi, niente di utile La chest Uh, altre Klinger Perfetto Io sono a 6 Klinger e 18 Granate Ottimo Sto andando alla grande Sto andando alla grande Vediamo se trovano troppo di lama Perché alla fine comunque rimane il miglior modo Devo essere sincero Sì, io infatti poi l'ho trovata nel lama Eh, infatti Nonostante abbiamo visto già un sacco di palazzi L'ho trovata solo lì Ma secondo te la missione del compleanno Si può fare anche in questa modalità? Secondo me no No, secondo me qua le missioni non le puoi fare Però ci spero Totalmente Perché è una rotturesca Scusa, non penso che possano abilitare solo le missioni che vogliono Quindi vieni qua, ti fai tutte le missioni facilissimo Dai, non vale Ma magari Ma non vale Ma magari Allora, le granate d'impulso non le voglio Questo no, questo no E ho notato che c'è anche qua E questo io non lo sapevo Il tiro a piattello Ti ricordi che ne abbiamo visto uno vicino a Parco Pacifico Nella casa abbandonata? Sì Guarda dove l'altro c'è L'abbiamo visto per i fatti nostri Se qualcuno sta chiedendo Qua Ah, carino Quindi evidentemente ne hanno messi tanti Ciao Allora, mi apro anche questa chest Io non sto trovando lama, Fere Te lo dico Non sto trovando lama E tecnicamente hanno aumentato pure quelli, eh No Sì No Sicuro? Credo Io ho letto qualcosa del genere Ti hai fatto nel dubbio No, allora Hanno aggiunto gli airdrop Che prima non c'erano Ed è una figata Però i lama credo siano rimasti quelli Uh, sto trovando un botto di Klinger Questo palazzo mi ha portato fortuna Ne ho trovato un botto Nei nove? Tutto in terra Tutto in terra Che miseria Se facciamo quella sfida lì Altre Aspetta Butto il C4 che mi avanza Però ora ne ho dodici, Steph Io sono a 6 Ne è il doppio Allora, lama dammene un po' No Però altre granate Vabbè, io sono un granataman Si è capito Allora, facciamo così Facciamo così Cosa? Sono a 24 granate? E vabbè Vediamo qua Ti faccio esplodere per forza Ti faccio esplodere per forza Ok Niente, io non trovo le Klinger Posso trovare qualsiasi cosa nella vita Tranne che le Klinger Mi è chiaro Ormai l'ho capito Ormai è molto semplice E comunque, Fere Adesso abbiamo anche i kart Nella 2.0 E secondo me dovremmo utilizzarli Però non ho ancora pensato a nulla Non so tu No, bisogna pensare qualcosa di strano Qualcosa che è difficile da fare Nella modalità normale Che quindi qua puoi provare tranquillamente Che ci starebbe tantissimo Ok Quindi bisogna pensarci bene Magari anche tanti consigli sarebbero utili Ho una mezza idea Però voglio vedere cosa consigliano i consiglieri Esatto No, raga, io odio switchare Il posto con questa roba non lo capisco mai Faccio prima scendere e risalire Allora, due lama Uno vicino all'altro Li prendo E io me ne vado in giro ovviamente Col golf cart Così vado più veloce e mi apro un sacco di lama Ma direi anche che tra poco battagliamo Eh sì, dai Sinceramente Secondo me Oh, quello che abbiamo si usa Io al momento sono abbastanza piena Di tipi di granate Guarda, anche io Anche io Cioè sinceramente potrei già battagliare Vediamo qua Anche io, anche io, anche io Allora mi sa che ci vediamo al campo da calcio Ma i granazzi valgono No Che capo Eh, scusami È bello Scusami È bello No, no, scusa Boh Io comunque ho un totale di 33 granate Tu quante ne hai di totale? Eh... Non ci voglio fare il calcolo Tipo 17 Eh... Dai, cerca di trovarne un altro po', cara È perché per ora non ne trovate altre Neanche normali Quindi sto un attimino ferma così Ok, ok, ok Ma le C4 le stai tenendo oppure no? No, io le ho buttate Secondo me non fa Cioè non fa Perché io anche 10 C4 Eh, ma fa troppo casino Buttale Buttale, buttale, buttale Appena trovato Guarda, male che vada Se non trovi altro Ti darò io un pochettino del mio E pareggiamo esattamente il numero di granate Che secondo me ci può stare Però, boh Impegnati a trovare qualcos'altro, grazie Eccoci qua Quindi, tu non puoi superare la tua metà campo Io non posso superare la mia metà campo E possiamo utilizzare soltanto esplosivi Buildare o non buildare Tu cosa mi dici? Sono indeciso Sono indeciso anch'io No, secondo me no No? No Cattiveria Ok Se vediamo che è troppo facile uccidersi Magari introduciamo anche il puio Ok, va bene, va bene, va bene Quindi ogni volta che uno dei due ammazza l'altro Si fa un punto Ok 3, 2, 1 Porca miseria Ma ne tirate troppe 1 a 0 Io cercavo di mirarti con le Klinger Ma non vale Secondo me bisogna spammare un po' Secondo me bisogna spammare un po' Ma le devo risistemare meglio Quindi puntare a spammare Eh, io ho detto cavolo Il primo round cercheremo di beccarci almeno con una Klinger Invece sei andato di cattiveria bruttissima Io ho più granate normali che Klinger Quindi, cioè, ho solo 9 Klinger io Devo preservarmene Ah, io ne ho 20 E mi fa piacere E 24 granate Avevo un botto di roba Quindi Mi fa molto piacere Oh, tu mi hai detto equipaggio E ti mi sei equipaggiata Ho capito Ma c'hai un arsenale te Io devo giocare con condizione Allora, non mi hai rubato granate, vero? No, non ti ho rubato nulla, cara Sto andando in giro a controllare se ne trovo altro per rifornirmi Così riesco a durare anche più round Quindi, comunque, 1 a 0 per Steph Ma adesso si fa sul serio Perché mo' questa qua spamma E mi fa volare l'altra parte del mondo Ah, mi devo sistemare? Ecco, mi sistemo bene Tutto quanto Ok, voglio le cose così Vai Ci sei già? Sì Allora, torno Prontissima Sappi che dei round di dodgeball Questo qua sarà il primo turno Poi, se piace molto i consolini Ce ne saranno alcune versioni molto diverse Ok Ok E pronta? Perché? Ma che fai? L'importante è capire dove sono gli esplosivi Che mi lanci E muovermi di conseguenza Ma che fai? E lo so, perché è pieno L'invasione di campo Alla seconda È un punto mio Non rompere Ok Devo capire verso dove sta correndo Che pre Dai, perché non esplodi mai? No 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 Alla, calmo Steph Le sto finendo Ok Uh, ti ho preso Ti ho preso anche io Fareggio 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 Uff Te l'ho attaccata al ginocchio Quando sono esploso Per fortuna Infatti non me l'aspettavo Ho abbassato la guardia Perché ti ho visto esplodere Invece stavo in tirato quella Meno male Meno male Infamissima 2 a 1 Comunque sì abbiamo fatto bene a non billare Perché è bilanciato così secondo me Molto divertente Nel campo da calcio Quello ancora più grande Sarebbe stato ancora meglio Eh lo so ma l'hanno tolto Perché c'era più spazio Eh lo so Noi eravamo Sì andiamo lì Siamo adatti Non c'è più nulla Vuoto Vuoto totale Non siamo neanche accorti Chissà da quanto l'hanno levato Penso dall'inizio della Della season 5 Appunto quindi Pensa Va bene non andiamo mai lì Ma chi ci va Ebbè è una zona un po' isolata Non ci va nessuno Allora Quanta roba ti è rimasta a te Fammi capire Allora 12 clingers 19 Ok Io ne ho 13 totale Tra tutto Ok Pronta Aspetta Aspetta Vai Dimmi tu quando posso partire Via Ce l'ho provato No 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 Cavolo No 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 Sto appiccicata Però spiccico adesso Non basta Sì Ma perché rimango vicino alle tue esplosioni Vabbè questa non conta Mentre esulto non me ne vado Tu spostati però Non conta Ok Due a due Due pari Quindi ci facciamo la finale Per il terzo punto Lo spareggio Esatto E per chi vince E tu parti con più esplosivi di me Forse no eh Perché hai tirato molto No ne hai tirato tante Hai tirato molto Hai tirato molto Quindi forse no Vediamo Usero tutto quello che ho fino alla fine Vediamo come va Divertente però mi piace Sì bisognerebbe provare a farla poi anche in quattro Ok che il campo è ristretto No dai Secondo me fa più ridere No no Sì si esplode di più No è impossibile Cioè secondo me non fai neanche cinque secondi Sì Secondo me è troppo No secondo me no Allora io ho nove granate totali Vediamo quanti di tu Sono curiosissimo Eh Uè Tranquilla Sei calmo Ma lei davvero non ha più granate Sette Eh veramente sì Vabbè guarda che siamo sette a nove E hai sette Klinger Quindi non è male Sì ma le granate cavolo Quelle normali ho finito Pranta Vai Via Ma Ma E questa volta mi sono spostata dalle tue Oh ma lei è appiccicata a venire Sono stata No sono stata bravissima Stavo correndo e saltando Perché ho cercato di prevedere dove staresti andato Gli ho tirato una lì e l'ho pigliata in piena Ho capito ma Cioè l'avevi tipo nel gomito Bellissimo Beh vabbè Ha vinto Ferre la sfida con gli sposti Non mi stupisce Oh se vuoi Mi avanzano cinque Klinger Se proprio te la vuoi giocare No 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 Non ci tengo Non ci tengo Non ne voglio carita È stata una bella sfida dai No è divertente Molto molto divertente Secondo me si può fare diverse versioni E quindi ci sta proprio È davvero davvero carina In ogni caso Ferre ha vinto La prima sfida di dodgeball Se l'è portata a casa lei Ma con gli esplosivi è normale Non mi stupisce Ci fermiamo così Tanta esperienza Ovviamente Steff in questo momento Ha trovato sei Klinger In giro Per questo posto Ne stavo cercando a due ore Nove Klinger Va bene mondo Grazie Grazie È divertente prendermi in giro Vero è divertente Sì 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 E dicevo Ferre ha vinto la prima sfida Come sempre qua sotto Copriate in altri video Questa è quella prima di tante folie Della Parco Giochi 2.0 Speriamo che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao